E ciao a tutti ragazzi in questa nuova sfida su minecraft oggi facciamo una sfida bastardissima ovvero userò il mouse invertito In pratica cosa ho fatto sono andato in posizione di minecraft opzioni controlli e il mouse invertito ok Quindi se io guardo verso il basso in realtà va verso sopra e se guardo verso sopra va verso il basso Ma per rendere la cosa ancora più difficile e siccome sono veramente sadico mi voglio fare male da solo Cosa ho fatto anche invertito click del mouse quindi io per cliccare come sto facendo adesso devo usare il mouse il secondo click Quello destro mentre quello sinistro sarà quello destro è tutto invertito è un casino Volevo anche invertire la visuale da destra e sinistra ma non ci sono riuscito non so come si fa né da minecraft neanche da windows Comunque già questa è una vera cosa bastarda e andiamo subito in partita Ok siamo nella mappa Non ce la faccio a controllarlo No ok ok ci sono Ah giusto dovevo premere ok perfetto ora vediamo tutto Oddio Vabbè ragazzi sarà veramente una cosa molto bestemmiosa questa Comunque non ho messo nessun limite di mappe da giocare come lo scorso episodio E come state vedendo oggi siamo invece nei lucky wars non negli sky wars Vediamo un pochettino sarà veramente movimentata la cosa Ok no aiuto no allora ok rompiamo Che cosa mi da no ah giusto con l'altro Ok Questo io possiamo Ah giusto Madonna no no ok Questo prendiamo anche la spada Le frecce Oddio quello con sinistra e destra No 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 che sto facendo No Mangia 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 no al contrario Mangia 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 Ah Ok altra mappa siamo in 15 Aiuto Ok si inizia No ok Prendiamo questo Questa No quali sono le scarpette Non i pantaloncini Questa fa 5 Questa fa 6 Prendiamo le uova No 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 Ok sta per iniziare Aiuto Ok no No Ok Una mela d'oro Questa ok Abbiamo un po' di roba Perfetto siamo messi abbastanza bene Meglio questa qui che questa Ok No No Così ok ci abbiamo fatto Ti pareva Ok Lascia di Thor Si Perfetto No 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 Ok così Sì Di Heaven Che cazzo sto facendo Aiutatemi No No Che cosa faccio Ok Perfetto Ecco tipo come giocare Nei giochi Con gli aeroplani Non so spiegarlo Allora ragazzi Shoppiamo le enderpearl E ah Qualcun di voi mi ha scritto Fai la sfida Senza shoppare Io ho fatto tipo 20 partite Dove non shoppo Quindi non ha senso Questa sfida Infatti non la farò mai E quello cadrà Quella cosa di Thor Lo becco Così L'ho preso Dai cadi E vai A me non l'abbiamo ucciso ragazzi Perfetto Si lancia con questo Ok Sono diventato bravo eh Ok le perle Le enderpearl Perfetto Questo qui No No Scappa 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 Che cosa ho fatto Scappa Dentro Aiuto Scappa Ok mettiamoci così No raga Io devo shopparmi qualcosa Per forza Sono messo malissimo Mi shoppo quella pova Tanto Già è difficile di per sé Sto coso A meno per questa partita Shoppiamo la cosa pova Andiamo ad ammazzare tutti Forza Ah sono rimasti 5 Ok Uno è qui No 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 C'è anche quella Con la spada Cosa in diamante Cosa succede Non dove sto andando Aiuto Scappa Scappa Ok No ce l'ho fatta Sembra che sto per cadere Che sto facendo Dove Vabbè No per di qua Dentro Non sopra Aiuto No Non ce la faccio abituarmi È impossibile Sto coso Ecco sono morto M'ha risparmiato No Non mi ha risparmiato Ok Ecco qua la nuova mappa Allora Non ce la farò nera nemmai Una chest Diamanti Wow Wow E frecce Ce la farò prenderla Ok Dove cacchio No è impossibile Ragazzi Cioè difficilissimo Chi me la consiglia è uno stronzo Due piccone Cosa ci faccio con due picconi Vabbè intanto mettiamo questo e questo Cioè ragazzi allora Se non arriviamo nemmeno a 500 like in questo video Veramente mi arrabbio Perché io sto smattando male con sta cosa Come ci salgo là sopra Come ci sono finito qui Ah ma c'è una parte anche sotto Wow Non lo sapevo C'è una chest Una mela d'oro Frecce Una spada Ok Abbiamo completato più o meno l'armatura Dei blocchi Aspetta 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 posso fare una cosa Devo salire sopra subito Con questo ok Facciamo così E ci facciamo No Spacchio i click Con l'altro Perfetto Abbiamo visto anche la spagna in diamante Mettiamoci il cappellino Prendiamo le ender pearl Ok non so Perché ne ho preso così tanto sbagliato Ma andiamoci la mela d'oro E andiamo tipo verso il centro raga E con questo Si giusto Ok Perfetto Siamo messi Bene La buccia tutto Io rompo questo Gnè Che mi hai dato I blocchi Vaffanculo va Uno spara bestie Oddio Chissà come sarà utilizzare lo spara bestie in sto modo E' tutto risolto Allora Cerchiamo di andare sopra quell'albero In questo modo Qua Perfetto Funziona Ora va molto Si va molto meglio adesso Si Quindi ragazzi Spero che questa sfida vi sia piaciuta E' stato veramente difficilissimo Infatti abbiamo perso In tutto Non abbiamo vinto Mi sono suicidato Sono scoppiato Sono volato all'aria In più vi vorrei dire Che se superiamo Gli 800 mi piace La prossima sfida Sarà fatta con la webcam Vi ricordo naturalmente Iscrivermi La prossima sfida Qui sotto nei commenti In modo che la sceglierò E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti